Da 50 anni di esperienza a stil bagno nasce Camer. Ridare nuova vita a capi di abbigliamento usati è in corso a Livigno fino al 3 novembre la prima campagna del riutilizzo grazie a una partnership tra Lungo Livigno Fashion e Humana People to People Italia. Ogni azienda deve fare qualche cosa per poter occuparsi, per poter creare e ridurre il proprio impatto ambientale. Questa operazione in collaborazione con Humana invita ad usare proprio, a portare i propri abiti nei negozi lungo Livigno in cambio riceveranno un accredito di punti, di mille punti del valore di 50 euro da poter utilizzare nei prossimi acquisti. Dare una seconda chance ai capi che non si indossano più contribuisce a progetti di sviluppo in 45 paesi del mondo. Di fronte agli effetti devastanti delle emissioni di CO2 tutti siamo chiamati a fare la nostra parte. È importante valorizzare ogni tipo di risorsa che abbiamo. Questo è il motivo anche per il quale abbiamo perseguito questo progetto per far capire comunque che noi siamo partecipi di questa iniziativa, di questo momento storico andando incontro a quelli che sono un po' i bisogni. Uno dei primi impegni della campagna è mitigare l'impatto dell'industria tessile tra le più inquinanti al mondo. Il cotone richiede l'uso di pesticidi e tanta acqua per realizzare una maglietta di cotone, la stessa che una persona beve in due anni. Vedevo queste campane come qualcosa che chissà doveva finire. Avendo avuto l'opportunità di andare direttamente sul campo e vedere cosa facevano, l'ho veramente cambiato il mio punto di vista verso il vestiario, verso tutto quello che magari noi non riutilizziamo più. Perché c'è qualcuno che può averne bisogno e perché no? Alla fine a noi non costa nulla. Per i vestiti è un grosso problema non sapere cosa farne, perché non va buttato nell'immondizia per diverse problematiche legate allo smaltimento, perché diventano rifiuti veri e propri. e ci siamo posti proprio questo problema di capire, di trovare una soluzione. Chiumana nel 2021, contribuendo a evitare l'emissione di oltre 130 milioni di chili di anidride carbonica e lo spreco di 128 miliardi di litri d'acqua, ha raccolto più di 21 milioni di chili di abiti usati. Numeri che potranno crescere grazie anche al coinvolgimento dei cittadini di Livigno e della Valtellina. L'obiettivo nostro è quello di stimolare questi atteggiamenti virtuosi nella quotidianità. La quotidianità che ha dato anche a me personalmente l'opportunità di metterla in atto ogni giorno e spero che questo possa essere un messaggio anche per tutti.